Vai! Ma vieni! Ma vieni! Ma vieni! Ma vieni! Ma vieni! Eccolo qui! Ci siamo! Ragazzi, guardate su che account sono! Sono CodePowa! Oh mio Dio, ragazzi! Siamo ritornati qui in un nuovo video per vedere il mio armadietto! Non lo so, ragazzi, ho voluto cambiare account! E oggi siamo appunto qui su Fortnite in un account che era uno dei miei primi account! Ovviamente il primo è stato quello lì che avete visto con lo scolviola! E questo è stato quello che ho usato praticamente per tutto il capitolo 1! Quindi, oh mio Dio, che ricordi! Ma mi raccomando, prima che inizia il video, supporta creator e digitate il solo e unico codice creatore! Il più figo del mondo! Codice Power! Ragazzi, mi raccomando, P-O-D-O-P-H con la clavina e se no vi ricordo che non sono io! Poi mandatemi il video o la foto su Instagram che avete shoppato o che mi supportate! Semplicemente vi potrò ripostare! Dopo che vi siete iscritti e vi ho lasciato un bel like! E io direi che potremmo subito iniziare con questo video! La cosa che mi è saltata subito all'occhio è l'arena! Oggi ho cliccato arena prima di iniziare il video e guardate qua! 0 punti su 400 e sapete cosa andremo a fare? Avete ragione, avete capito! E soprattutto andiamo in partita! Ed eccoci qui in partita ragazzi! Siamo per andare al lago Languido e oh my god! Sto usando lo school natalizio! Che sapete si sta avvicinando un po' il Natale, ok? Siamo a metà ottobre ma si sta avvicinando il Natale e quindi sì! Quindi al posto di usare lo school viola voglio usare lo school natalizio! Guardate che bello che è ragazzi! Tutto rosso! Tutto che fa i regali! Sì sì sì! Lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale con il codice POWANNELLOSHOP! Vi ricordo che gratis non costa niente! Qua intanto io sto andando al lago Languido! Io spero di andare a prendere questa mitraglietta qua vero? Grande che è mia! Sì è mia! È mia! E ti ho distrutto! Sì! Molto bene molto bene molto bene! Cosa c'è qua? Ragazzi subito una kill così per POWA! Molto bene molto bene! Mi devo fare subito questo shield! Vediamo se riesco raga! Uh legion balpompa! Ma sai che quasi quasi... Ok ok! Ok prova a darmi fastidio e ti distruggo eh! Te lo dico! Prova a darmi fastidio e ti distruggo! Ok facciamo così e bomba! Ok let's go! Ma vieni! Ma vieni molto bene! Ok aveva un pompa del nonno! Questo qua mi piace affatto! Assolutamente assolutamente me lo prendo! Qua ce ne dovrebbe essere qualcun altro! Ok 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 vai! E si vola anche con un'altra kill raga! Let's go! Siamo subito a 3 kill! Molto 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 bene! Ce ne dovrebbe essere uno qua! Eccolo qui eccolo qui! Un altro qui! Mamma mia ragazzi! Certo che la mira di POWA ogni tanto gioca brutti scherzi eh! Veramente! 4 kill subito all'inizio ragazzi! Subito start! E siamo tra l'altro in 61 persone! Non ce ne frega di nulla e di nessuno! Qua c'è uno che mi spara! Molto bene! Vieni qui vieni qui! Guarda se riesci a venire qua dove sono io! È veramente tanta roba! Beh più che altro non ti volevo lasciare questo P90 però fa niente ascolta! Me ne farò una ragione! Eccolo qui! Ok ragazzi è totalmente esploso questo! E non so neanche perché non si è murato! Ah vabbè non aveva materiali ci sta! Poverino! Date a POWA un P90 e lo userà più che bene! Qua hanno fatto la torre di Pisa ragazzi! Qua hanno fatto la torre di Pisa! Eccolo qui! E... POM! Muori! 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 Ok! Questo cavo ha fatto la torre di P... What? Me ne è spoccato un altro! Ok! Aspetta 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 aspetta! Tu non hai capito come funziona la situazione! Aspetta! Ferma tutto! Ferma tutto che qua io devo fare le 20 milioni di kill! Oh! 3 di vita! 3 di vita ragazzi! Non so come ho fatto a sopravvivere! Non chiedetemelo! Non lo so! No no adesso non mi fa fare lo scildone! No ragazzi impazzisco! No raga veramente impazzisco! Non ci credo! Ah ma è dietro! Ma che cosa? Oh! Let's go! Let's go! Ragazzi! 8 kill allo start! Mamma mia che partita state vedendo ragazzi! Che partita! Non so come mi sono salvato! Non chiedetemelo perché non ho la più pallida idea! Ok! Invece non ho qua! Vabbè questo qua non è un genio! Evidentemente questo qua non era proprio un chissà chi! Ma scusa ma avevi il più 90 oro? Potevo usare il più 90! Ragazzi siamo a 9 kill! Ci sono veramente un bot di persone ancora! E ragazzi questa qua deve essere una win! Con 20 kill! Dai dai raga 20 kill le riusciamo a fare! Forse! Boh non lo so! C'è qualcuno qua ragazzi! L'ho visto! Eeeh! 31! 31! Molto bene! Non mi sembra un genio! Neanche questo! Poi adesso volete vedere che mi spacca! Eh infatti! Avevo! Non avevo ragione! Però! Ok! 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 Allora! Mamma mia! Ok! Ok! Molto bene! Molto bene! Te lo prendiamo subito! Aug! E poi ragazzi dobbiamo andare in safe! Tanto ho pure due jump! Let's go ragazzi! Che bella partita! C'è uno qua! C'è uno qua! C'è uno qua! C'è uno qua che non è neanche lui un genio! Vai ragazzi! Ve l'ho detto che non sono tutti geni! Dai che muori! Dai che muori! Dai che muori! Dai che muori! Dai che muori subito! Dove sei? Ah! Sei qui! Ok! Poverino! Non è stata la morte più bella di tutte! Poverino! Smitragliato con una P90 oro! Ok! Molto bene ragazzi! Let's go! Dobbiamo pulciare! Dobbiamo fare le 20 kill! Che ce la possiamo fare? 20 kill in arena raga! Let's go! Devo usare la jump per uno! Ma pensa un po' Te che storia! Ok! Allora sperando che non vada via! Ok! Lo vedo ragazzi! Guardate! Questo qua è proprio... È impazzito! È impazzito! Sì! Ma lo so che sei dentro il cespuglio! Non è che devi per forza... Sei qua dentro sei! Io lo so eh! Sì! 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 Let's go! Un'altra kill! E l'ho ucciso! Ok! Lui mi ha fatto male ma... L'ho ucciso! Mamma mia raga che kill! Aveva lo spaz leggendario! Oh mio Dio! Aug mitico! Aug mitico! No è aug leggendario in verità però... Ragazzi! 13 kill! Dai! 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 3... Sì! Ma io ho paura che questo abbia qualcosa di tipo molto interessante! Ok! Mi hanno appena aperto! Ok! Ho lo spazio e non ho paura di usarlo! 34 però no dai! E l'ho ucciso! E l'ho ucciso! E l'ho ucciso ragazzi! Ma... Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia raga! 15 kill! 15 kill e me ne mancano solo 5! Però me li dovete lasciare ragazzi! Che sanno come faccio io! Ok! Forse ho appena visto uno là! Oh mamma mia che spavento! Ok! Qua 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 qua! E questo qui ragazzi! Dai dai dai! Dai dai! Costruisci! E poi... Mi sembra abbastanza bravino questo a confronto degli altri! Ok! Cioè un po' più bravino ecco! Diciamo che... Comunque... Ci sta che non incontro i fenomeni! Oh mamma mia raga! 16 kill! 16 kill! Dai dai dai! Ok! Allora probabilmente lo scar me lo prendo anche se io preferisco... No in verità non è che preferisco qualcosa ecco! Sono bellissimi entrambi però ragazzi! Però adesso è arrivato al momento di fare 20 milioni di kill! Uno appena morto! Diamine! Allora andiamo subito da questo ragazzi! Ne devo uccidere tutti tranne uno! Posso anche non ucciderlo uno! Cioè se li voglio uccidere tutti o poi ovviamente win... Devo fare 21 kill! Devo fare 21 kill! E non so tu dove sia! Cioè non ho proprio la più palida ed è... Eccoti qua! Ok! 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 Let's go! Un'altra kill per Powa! Molto molto bene raga! Io non so quante persone... Quante persone avevano ucciso questi! Non ho la più palida ed è... Ma... Dai! Dai! Dai che ce la possiamo fare! Dai che ce la possiamo fare! Dai che si può fare! Dai! Dai! Ok! Non ho visto uno là! Ma qui ce n'è uno! Sì ce n'è uno! Ma che cavolo! Va bene ragazzi! Non è neanche un fenomeno questo! L'ho visto ed era lì tipo a guardarmi! Ma che cavolo! Ok! Oh mamma mia! Ma ha aperto! Ma ha fatto 100! Ha palesemente leva leggendario questo ragazzi! No! Si è muoio da questo raga! Però no eh! Evitiamo dai! Ok! Vedete non è un fenomeno ragazzi! Non è un fenomeno! Non è un fenomeno! È tipo un Powa! Olle! 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 Ed esplode pure lui! GG! Esplode in un cumulo di loot! Molto bene ragazzi! Servono solo 2 kill! Oh mio Dio! Raga vi giuro io non ho mai fatto 20 kill in arena! Spero che questa sia la prima volta! Spero! Spero che questa sia la prima volta! Anche se a 0 punti! In verità poco mi interessa! Ecco! Però forse... Allora! No! Non voglio guffarla ragazzi! Sto zitto! Ok! C'è gente qui! C'è gente qui! Si sta sparando! E la cosa non è assolutamente buona! Ok! Ce n'è uno qui! Ma! Ok ragazzi! Ce n'è uno qui! E dai! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Sì! Sì! Tu hai pure la mia skin! Questa è palesemente la mia skin! No ragazzi! Non me la rubate! Non me la rubate! Ve lo dico! Non me la rubate! Bre! Bellissima la kill di Powa! Bellissima! Per modo di dire ragazzi! Manca solo una kill alle 20! Manca solo una kill alle 20! Dai che si può fare! Dai che si può fare! Dai che si può fare! Ho 3 jump! Ma come? Cioè! Su 19 persone ho avuto 5 jump totali! Di cui una mi sa che l'ho pure trovata io! Ok! Ne ho visto uno! Ne ho visto uno! Ne ho visto uno! Ne ho visto uno! E seppure... No! Non è che questo qua è bravo! Oh cavolo! All'augo questo! All'augoro! All'augoro ragazzi! Con tutto il loot che lascia in giro! Ok! Attenzione! 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 Ha pure lo spasso! Ok! Ti prego! Ragazzi! Questo qua è tipo fortissimo! Sei arrivato in endgame! Ma perché è così forte questo? 168! 168! Ma mi ha aperto pure lui! Mi ha aperto pure lui raga! Oh mio dio! Questo qua è veramente bello forte! Ti prego! Non puoi far così dai! Non puoi far così! Devi almeno farmi fare le 20 kill! Vai! Ma vieni! Ma vieni! Ma vieni! Ma vieni! Ma vieni! Andiamo! 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 Andiamo ragazzi! È la nostra kill! È la nostra kill! È la nostra ultima kill! Non so dove sia! Non so dove sia ragazzi! Devo ucciderlo subito! Ti prego dimmi dove sei! Svelati! Svelati! Dove sei? Eccolo qui! E ci siamo! E ci siamo! 21 kill in arena! 21 kill in arena! Più vittoria! Un 200! Mamma mia ragazzi! Che partita! Ma che cosa ho fatto? 21 kill in arena! In arena! Ragazzi ditemi dove avete visto un game! Così una partita così! Io sinceramente da nessuna parte! Abbiamo praticamente fatto 3 divisioni in una sola partita! E vi voglio veramente ringraziare per la visione di questo video! E mamma mia 745 punti in una partita! Ragazzi vi ringrazio per la visione di questo video! Vi raccomando se volete diventare forti più di me! Quindi fare anche magari 30 kill in arena! Inserite nello shop il solo e unico support tank creatore! Powa B-O-W-H! Ovviamente con l'H alla fine! Sennò non sono io! Ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video! Ci vediamo stasera alle ore 20 e 30! Un saluto a tutti! E sempre codice Powa! Ciao!